Ciao a tutti e bentornati con una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Discovery Mythbusters The First Experiment. Questa è la versione, diciamo free, il prologue diciamo di Mythbusters. Dovrebbe essere una trasmissione televisiva, io non l'ho vista, cioè sono andato un pochino a informarmi dopo aver provato il gioco e sono in sintesi delle persone che cercano di sfatare i miti insomma più comuni, così come cercano di fare degli esperimenti assolutamente folli. È un gioco che ho trovato davvero interessante per un motivo, permette di, per quanto sia guidato, permette l'amministrazione di risorse personali e questo è molto bello, lascia molto spazio a comunque un'organizzazione propria. Questo è lo studio dove andremo anche a registrare insomma le varie trasmissioni televisive, infatti dovremmo fare anche un'opera di montaggio, cosa che non ho capito benissimo. Il gioco sarà in italiano, ma in questo caso purtroppo la demo è solo in inglese. Dobbiamo prendere uno di questi tre personaggi insomma che gestiranno la trasmissione e ognuno ha dei bonus e dei malus, in questo caso prendo questo che è entrambi i bonus, sia dei soldi che dell'audience. Quindi lo accettiamo e andiamo a fare il nostro primo esperimento. Dobbiamo prima di tutto disegnare e quello che andremo a fare è, svolgendo questo minigioco, praticamente dobbiamo, adesso dovrebbe essere una cosa del genere, credo. Ok. Praticamente questo riassume un po' il 52%, quindi direi che lo metterò più o meno questo, così. Doh. 59. Ok, così. Ok. Significa un pochino come se stessimo, diciamo, disegnando, scrivendo la trasmissione in sintesi, no? E questo è un'idea comunque carina. Allora, così. E così dovrebbe essere quasi a posto. Così. Perché abbiamo un numero dimostra, vedete che ognuno è un gioco diverso, un minigioco diverso. Perché in sintesi stiamo disegnando la modifica per una granata. Perché dobbiamo testare, diciamo, se una persona dietro una protezione può resistere a una granata, ovviamente, con tutte le cose di sicurezza. Ora dobbiamo risolvere questo. Allora, dobbiamo, vabbè, dato che io... Dobbiamo trascinare una di queste cose. 1 più 0 uguale 4 più 8. No. Possiamo fare due mosse. Due mosse soltanto. Beh, io faccio a caso. Provò a caso. Così. E così. Poi è sbagliato, ovviamente. Try again. Se sbagliamo un tot di volte dovrebbe darci anche la soluzione. Adesso io non voglio star qui a pensare perché ogni volta è diversa della cosa. Show int. 4 più 0 uguale 4 meno 0. Ok. Quindi 4. No, nulla, nulla, nulla. Vabbè, rifacciamo. Sbagliamo l'ultima in modo da... Allora. Facciamo 4 più 0. Quindi 4. Così dovrebbe essere. Sì. Perfetto. Abbiamo disegnato la nostra granata. Ora premiamo Q e questa è una cosa molto interessante perché ci spiega come creare la nostra granata. Praticamente dobbiamo creare un mockup della nostra granata. e con X e C si va a sfogliare, si va a vedere tutto quello che serve per crearla. Quindi in pratica qua ci dice che useremo il piccolo tavolo da lavoro, il grande tavolo da lavoro, la segra circolare, insomma, e... Poi vabbè, avremo tutto il campo di... di test. Ok. Allora. Ci viene richiesto tutta questa serie di oggetti che adesso andiamo... Il gioco scatta ma probabilmente perché sto registrando e non è ottimizzatissimo. In realtà quando lo gioco da solo funziona bene, quindi... Allora, che cosa ci serve? Una granata che compriamo a 600. Questa, ripeto, è molto bella come cosa perché possiamo poi crearci una scorta, una sorta di magazzino nostro. Dobbiamo prendere anche la sega da ligno, credo. Wooden Wood Sew, che è questa. Questa è quella da metallo, questa è quella da... ok. Poi dobbiamo prendere Wooden Plank 6. Se poi sbagliamo e ne buttiamo via, dobbiamo ricompararle e rifarle. Quindi questa è un'altra cosa interessante. Dobbiamo prendere Pizzoletric Igniter, che è praticamente una sintesi di... di attivatore, insomma, l'innesco della nostra cosa. Prendiamo la wrench, una chiave inglese. Prendiamo dei chiodi, ma non mi ricordo quanti. Niles 8. Quindi prendiamone 8. Poi pensate di giocarlo tutto completamente in italiano. Allora. Allora, check your notes on page 3. Quindi riapriamo, sfogliamo la pagina 3. E che è questa. Premi Spacebar. Ok. Dobbiamo... ok. Poi è tutto guidato, quindi... Premi E. Prendiamo la granata. La posizioniamo qua, tenendo premuto. Ci sono due modalità in basso. Possiamo mettere assemblaggio e disassemblaggio. Ok. Dobbiamo rimuovere questo. Quindi passiamo alla disassemblare. e la smontiamo. E così creiamo il nostro prototipo della granata. Quindi montiamo i nostri due cavi in modo da farla esplodere a comando e non con l'innesco classico della granata. take item, premiamo I e vedete che ora possiamo andare a muovere le varie cose nella nostra tool belt. Infatti dice muovi tutti gli utensili direttamente nella tool belt. Perfetto. Dovremmo aver fatto chiudi con tasto I, premiamo il tasto Tab e vedete che cosa possiamo scegliere. Scegliamo la wrench e andiamo sul nostro taccuino con wooden plank piece, wooden beam piece. Ok. Dobbiamo fare pagina 4, pagina 5. Come farle? E il gioco ci guida tutto con la sega circolare. Quindi premiamo Q e andiamo alla sega circolare e prepariamo quello che ci serve per questo esperimento. Assemblaggio. Montiamo. Adesso possiamo anche ruotare la visuale però montiamo la sega da legno. Vedete? Bisogna montarla un po' sullo stile di car meccanissimo letter. Non è proprio immediatissimo. All'inizio almeno se non sapete cosa fare. Avvita. La macchina è pronta a funzionare. Quindi ora possiamo usarla per creare wooden beam piece. Wooden beam. Dobbiamo tagliarla al punto giusto e dobbiamo farne due. Quindi bisogna stoppare il punto giusto. Abbiamo fatto una merda perché Vabbè, wooden plank, dobbiamo farne sei. Continuiamo a sbagliare. Vedete che Non abbiamo fatto bene ma questo mi era successo anche anche la prima volta che avevo fatto questa cosa. Quindi me ne compro altri e ci proviamo. Non ho ancora appreso bene. Forse il discorso del pad potrebbe essere un pochino più utile. Wooden plank. Bisogna Allora Adesso è giusto. Mierda Sbagliato ancora. Adesso è giusto. Perfetto Ok Abbiamo presi tutti Sì anche di più va bene Check A pagina 4 Quindi torniamo indietro Vedete Richiede un hammer Quindi prendiamo il martello dal nostro Dalla nostra borsa E andiamo Non mi ricordo più dove C'è il tavolo da lavoro qua C'è il tavolo da lavoro Il crafting E facciamo il mock up Cioè praticamente andiamo a montare con i pezzi di legno che abbiamo fatto La sagoma che useremo Perché ovviamente non andremo mai a testare una granata su una persona vera Ma tenteremo di riprodurre la sagoma di un uomo Per appunto Vabbè qua Lo montiamo stile cowboy Adesso dobbiamo mettere gli chiodi Non è proprio comodissima Comodissima la meccanica del pianta chiodi Ma va bene Ok E dentro del tutto no Ok Dentro del tutto anche questo Perfetto Rimontiamo adesso le varie parti Finistro Antacchiodo Ok Non ho ancora capito benissimo come piantarli Continuo a premere spasmodicamente Montiamo anche il secondo Questa è forse la parte più tediosa Di tutto Di tutto l'evento Faccio questo che saluta I video sono senz'altro più interessanti Di questo gruppo dei meatbusters Però il gioco non è male Perché comunque Vi create le cose Le fate Dipende poi Quanto il gioco finale Sarà guidato Che dovremmo Dovremmo aver fatto tutto Credo Test Ah no Manca questo Ok giustamente per tenerlo su Meglio Ok no È più semplice di quello che pensassi Piantare il chiodo Cioè credo Praticamente mi diventa nero il coso Tenete premuto Ok Take item Ok fatto Ora dobbiamo prendere The test mock up into your hands Quindi lo prendiamo E lo trasferiamo al camion Perché poi ci dovremmo arrecare sul posto Quindi il camion è qui Lo depositiamo lì Salve Ora vai allo shooting range Quindi praticamente qui Al poligono E andiamo a testare Abbiamo già praticamente finito Ma non è finito qui Perché poi Adesso È un fastidio Questo scattino che fa Però Dovremmo montare Tutta la scena Registrarla E poi montare il video Quindi C'è che Ah ok Dobbiamo leggere Un po' tediosa sta cosa Shooting range Varie pagina set Dobbiamo fare la zona letale La zona alta distruzione La bassa distruzione Ok Si apre E possiamo andare A lavorare Questo è solo Diciamo il base Poi Take the mock up To the safe zone Quindi praticamente Devo andare A prenderlo Nel Qui E portarlo Nella safe zone Ok Sì Ho già fatto tutto questo Quindi più o meno So dove andare Lo faccio abbastanza Velocizzato Però Ok Fatto questo Check You're not Alla pagina 7 Put In the right place Ok Allora Dobbiamo mettere Nella parte centrale La granata La granata Si Perché dobbiamo Mettere Direttamente Nella nostra Cosa Ok Quindi prendo la granata E la piazza E la piazzo qua Ok Ora Prendiamo pagina 8 Preparate Starting Position Eh si Quindi praticamente Dobbiamo prendere Questo No Dove cavolo era? Beh questa è la zona Dove faremo esplodere la bomba Quindi monteremo Il Il bottone Diciamo Di attivazione Lo monteremo dopo Lo montiamo subito Sì Lo montiamo subito Che poi sarà connesso ovviamente Alla bomba Con Un Con un cavo Mentre Se andiamo a vedere Ci darà L'istruzione Sì Di dove andare Start the experiment Ok Quindi praticamente Noi dobbiamo prendere Eh Fastidio Eh Dobbiamo prendere Delle protezioni Che non capisco Dove prendere Perché dovrebbe essere Questa Ma non me la fa prendere Praticamente Noi prendendo Questo Questo lo mettiamo In un punto Che sarà Probabilmente Qua da qualche parte Ah no Qua ce lo pulisce Start the experiment Sì Va bene No Aspetta Mola lui Ok Cerchiamo di capire Adesso Come funziona Sta cosa Perché Allora A mano Praticamente Dovrebbe segnarci Adesso Ah no Ma di là Ok Pardon Dobbiamo collegare Quello Tanto qua Il gioco Ci dice Che ci lo mette Che è a posto Lui Quindi Sì Ma che fastidio Mamma mia Ragazzi Stai lì Allora no Dobbiamo andare A finire Di configurare Quella fare lì Ok Adesso Ce lo fa Sistemare Allora Allora Prendiamolo Lo mettiamo qui E poi Gli mettiamo La barriera Davanti Eccola Adesso Me la fa Prendere Take E la mettiamo Qui Quindi il test Andrà a vedere Se Riusciremo A far Salvare E poi Metteremo Anche il barriere Sopra E ora Facciamo esplodere La granata E vediamo Se funziona E direi Che è riuscito Bene Quindi È andata Avrei dovuto leggere Tutto Insomma Il test Però Finiamo L'esperimento Quindi Spacebar End Experiment E ora Abbiamo Possiamo riparare Il set O buttar via tutto Noi ripariamo Il set In modo da recuperare Le varie cose Per poterle usare In un futuro E non dover Ricomprare le cose Hai abbastanza Card Per editare L'episodio Vai Al tuo Portatile Nella Buster All Quindi Noi torniamo A casa Torniamo In studio Televisivo E la cosa interessante Adesso È che possiamo Andare a montare Il filmato Allora Io Non vi nascondo Che Questa parte Non l'ho capitata Tantissimo Nel senso Che dovrò Dovrò Un attimino Guardarlo Sarà magari Più semplice In italiano Però Qua ci sta Spiegando Che Qua C'è il programma Di vantaggio E poi abbiamo Le varie carte Abbiamo anche La durata E come Come abbiamo Organizzato Tutto Quindi Praticamente Noi possiamo Mettere il tizio Lì Ognuno Ha Ogni Carata Ha dei vantaggi E degli Svantaggi Cioè Mostrare Una cosa Ci costa Più soldi Ci togli Più soldi Ci dà Più popolarità Noi mostriamo Il nostro Personaggio Qua Mostriamo Il piano Ah vabbè Sì 45 minuti Sì Noi mostriamo Il piano Perfetto Prendiamo Questa E l'episodio È troppo lungo Quindi bisogna Levar qualcosa Tipo questo Che è 12 Mettiamo Questo E vedete Che ci dà Un bonus Ci dà L'impatto Sul budget L'impatto Sulla popolarità E qua Possiamo Registrare Il nostro Episodio Che viene Poi Rilasciato Questo In sintesi E Possiamo Vedere Le mail Il progresso Che abbiamo Fatto E questo È Il La prima Missione Andando avanti Poi Ci verranno Date Altre Quest Quindi Altri test Da fare Praticamente Vogliono Mandare In aria Una sedia Is it a bird Is it a chair Praticamente Costruiremo Una sorta Di mongolfiera Con una Sedia Vedere Non lo so Quanto vola In alto Insomma Questo sarà L'esperimento Da fare Questo è L'essenza Di Mythbusters Che trovate Anche sul Tubo Insomma E poi si vede Su Discovery Con Credo Serva O il satellitare O l'abbonamento Credo Per vederlo Però insomma Questa è Una Il gioco Il gioco Di quella Trasmissione Lì Ho ricevuto Questa copia Che poi È disponibile Per tutti Perché è la versione First Experiment Quindi è la versione Gratuita Uscirà Nel corso Del 2022 Magari Anche a breve Non lo so Onestamente Magari Se esce a breve Vedrete il video Probabilmente dopo L'uscita del gioco Vi rimando Comunque A commenti Fatemi sapere Che cosa ne pensate Se l'avete provato Se lo proverete Se vi piace la trasmissione Se me la consigliate Insomma Io l'ho visto Qualcosina Insomma Però niente di che E noi ci sentiamo Al prossimo video In play Alla prossima Ragazzi E ciao ciao